Cazzo, dialogate di non aprire la pasta Quindi finisce la metà di alberi? Speriamo Ma sei sicuro di averlo visto? Sì, sì Speriamo Andiamo a guardare giù Questo è indietro Vai prendere quell'orizzonte lì Andiamo Cazzo, lì, 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 lì Cazzo, lì, 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 lì Cazzo, lì, 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 lì Delizio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti